Il capitano è, dono mio amico, i saccaribili importanti things to do. No, 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 no. Manuela? Cruella! La del PLAN . 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 Bueno, se acabó esto ya, ¿eh? No! Mamá! Vieni a casa. No! Santo Dio, tu vienes oltre a la poesia! Vieni a casa! Non voglio. Vieni a casa. Manuela? No! Ea? No! Vieni a casa. No! Vieni! Hanno! No! Vieni a casa e parlare di questo. Vieni a mia casa. Vieni a la scuola per il vento. 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 Vieni a la scuola per il vento.